iscriviti al canale per un divertimento senza fine benvenuti allo speciale di halloween del nostro talent show diamo il benvenuto a nila e alla sua esibizione di yoga ciao grazie ci vediamo in finale straordinariamente rilassante misterioso ma pacifico da belle doc mi ringrazio e vai congratulazioni è fantastico sei riuscita ad arrivare in finale namaste ragazze ragazza sei stata grande io credo che sverrò sembra che tu abbia visto un fantasma nila andiamo ragazze facciamole un po di aria ma l'avete visto jb mi ha appena fatto l'occhiolino ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure la cotta di nila la miglior musica per halloween è il pop scaccia tutte le paure no non è vero la musica disco è molto meglio andiamo non ricominciate allora senti le farfalle cosa ho capito cosa sta accadendo qui qualcuno si è innamorato di jamie ma no non è vero lo stai dicendo soltanto perché ho tutti i suoi dischi sono andata a tutti i suoi concerti e ho tutta la casa tapezzata con i suoi poster beh credo anche che sia perché tu sei svenuta quando ti ha fatto l'occhiolino buono halloween ma non ha senso ecco forse io ok lo amo tanto sarà meglio che tu non svenga anche durante la finale tu credi possa accadere stanotte ci sarà il party di chiusura del talent show e fabio non è passato a prendere il suo cosmo perché non lo chiami allora hai idea di quante volte l'abbia fatto non risponde mai e ovviamente io ho mandato un sacco di messaggi ma non risponde neanche a quelli magari sta lavorando in un salone per gattine non può rispondere io non lo so ma una cosa è sicura riempirò il suo telefono con vampiri e teschi così mi presterà attenzione è halloween sono stata sempre una cagnolina tranquilla ma ora sono agitatissima a causa di jb non preoccuparti troppo ma vip ezz la finale tra poche ore dobbiamo trovare un modo per aiutarla vediamo dai pensiamo quando tocca a me io visualizzo sempre i giudici nei modi più stravaganti e questo mi rilassa molto ho trovato potresti immaginare jb con un naso da clown o con un cappello divertente o un cupcake jb buona idea anzi no non funziona con me gli unici che ci possono aiutare sono fabio e fabia alla buonora nila si esibirà stanotte e ha bisogno di un'acconciatura nessun problema sarò lì in cinque minuti lo prometto ciao ragazze sono qui tu avevi detto cinque minuti ed è passata un'ora che cosa stavi facendo io ero ecco ero impegnato a fare alcune cose di quali cose parli o nila mi sembri triste che cosa è successo io amo jb soltanto un pochino e quando lo vedo divento così nervosa che svengo non aggiungere altro quello di cui hai bisogno è un look che aumenti la fiducia in te stessa confident style ma ti sei vista tu sei venuta al mondo per essere una star addirittura più grande di jb ma ricorda le persone famose sono normali come lo siamo tu e io nessuno è migliore o peggiore è solo per la sua fama questo look color boost mi ha ridato fiducia in me stessa è ora di prepararsi per lo show di stasera grazie bene adesso me ne vado perché devo assolutamente finire delle cose di nuovo stasera c'è la festa con tutti i vincitori tranquilla ci sarò tra tutti il costume più spaventoso la donna pantera neanche per idea il più terrificante tra i costumi esistenti è quello da dentista perché i dentisti sono veri no per me il costume più pauroso il vostro non mollate mai ciao a tutti benvenuti al miglior talent show del mondo e adesso diamo un caloroso benvenuto a nila la nostra artista yoga silenzio silenzio wow davvero zen mi ricorda molto un fiore di loto non sembra che possa levitare da un momento all'altro wow incredibile trasmetti grande pace e armonia hai proprio ragione mi sento così rilassata ora l'adoro sappiate che ha già fatto la mia scelta wow che posizioni una performance imbattibile brava nila sei la vincitrice della categoria namastè che gran stile nila l'avete visto anche voi mi ha fatto l'occhiolino sul serio nila è la migliore congratulazioni nila il tuo occhiolino è virale eri così rilassata e che posizioni sei elastica come la gomma namastè amiche posso avere il tuo autografo ti prego ti prego nila e le sue amiche le vip pezzi seguono i loro sogni non hanno mai mollato e perciò hanno avuto tantissimo successo nel nostro talent show ma cosa più importante sono rimaste loro stesse bravissime ragazze adesso mi avete spaventata voi tu credi che arriverà in orario? sono sicura di sì l'uzio non ha mai perso una festa di halloween ciao a tutti ecco a voi la salone mobile ora che le vip pezzi sono famose dovranno partecipare a moltissimi eventi quindi perché non andare in tourne insieme? ma è davvero bellissimo lo devo condividere adesso ho capito ecco perché eri così impegnato zio già volevo farvi una sorpresona tu sei lo zio migliore del mondo ok ok nipotina preferita ma non stringermi così forte attenta ai capelli i love it pezzi ehi ciao cari followers una delle feste più famose in assoluto sta per arrivare halloween oh yeah la notte in cui gli spiriti tornano sulla terra e non c'è nulla di meglio che passare questa notte con le tue bff che significa migliori amiche per sempre buon divertimento ciao e bow ciao siamo cagnoline molto cool amiamo le acconciature insieme vivremo mille avventure vip pez vip pez siamo le vip pezzi se stiamo insieme noi non ci fermiamo lotta paura inizia l'avventura i love vip pezzi halloween non ti spaventare con questa scorciatoia dovrei arrivare prima al centro commerciale dai lady gg è solo una stradina a buia e sinistra i mostri non esistono ci deve essere una spiegazione una spiegazione che incubo è stato così spaventoso che mi ha fatto rizzare i capelli per fortuna era solo un sogno ora do il buongiorno ai miei followers quindi non è stato un incubo ora che cosa faccio con questi capelli? halloween la mia festa preferita zucche caramelle film dell'orrore quest'anno vincerò il premio per le migliori decorazioni di central pet il mio salone avrà un aspetto terrificante e divertente ma mi manca ancora qualche decorazione queste zucche sono molto mature marciranno presto ho un'idea ciao juliet mi servirebbe un tuo consiglio cosa faresti? con delle zucche molto mature marmellata per tutto l'anno ottima idea juliet vieni al salone dopo ti darò un vasetto che bello allora ci vediamo dopo anche se ci fosse un vero mostro ma è vero guarda i miei capelli dovresti comunque fare shopping i mostri non escono di giorno e se uscisse? in caso lo facesse beh le tue amiche gli morderanno le caviglie amiche siete fantastiche guarda cosa ho trovato Lady Gigi questo ti donerà un look super cool ma è bellissimo grazie ma il vostro look è ancora più bello è solo che non hai avuto tempo di sistemarti andiamo a cercare quel mostro forza amiche amiche? sì sì arriviamo ora la parte più importante è le mie zucche guarda zio ho fatto della marmellata con le tue zucche altrimenti marcivano cosa? servivano per decorare? oh che disastro al negozio le avevano finite il mio alluce ma ci deve essere una soluzione ma questa parte seguitemi ma era sopra questa scatola era sopra questa scatola era sopra ok Lady Gigi ispira ispira guarda quella è Lady Gigi andiamo a vedere oh no i followers non possono vedermi così adoro il tuo look dove sta andando? niente paura ho un'idea vorreste assaggiare della marmellata? marmellata? e come dovrebbe aiutarmi con questi capelli? oh aspettate fabio 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 e da quando le ho usate per fare la marmellata invece delle decorazioni è molto triste ha un'idea questa storia delle zucche è un disastro un disastro ciao Fabio giornataccia per i capelli beh questo disastro si può risolvere shopping style la pettinatura perfetta per fare shopping ad Halloween halloween ed io sono senza zucche beh ho una sorpresa per te abbiamo fatto dei dolcetti a forma di zucca con la marmellata wow ed oltre a decorare questi dolcetti si possono anche mangiare sarà un successo mentre Fabio mi acconciava i capelli ho deciso che andremo a fare shopping e risolveremo il mistero si con quel look sembri ancora più coraggiosa si adoro andare a fare shopping con voi e se incontreremo un mostro lo spaventeremo di certo cari followers rieccomi qui pronta per fare dello shopping oggi nessun mostro mi spaventa ovviamente non mangiarmi voglio solo fare shopping Lady Gigi è solo il pupazzo gonfiabile del centro commerciale vedete Palluers i mostri non esistono I love it best non esistono Grazie.